Ah un faccio a tutti ragazzi Qui a cale lupo con stick madonna ragazzi Vabbè va Ragazzi guardate i crediti L'abbiamo venduto Alla fine ho abbassato un po' il prezzo però va bene L'abbiamo venduto a 200.000 crediti ragazzi 200.000 crediti Siamo pronti ragazzi A fare un altro pack opening La squadra è sempre questa ragazzi Dobbiamo puntare a uno di questi stronsi qua Dovrebbero esserci pacchetti speciali me sa No hanno finito Per fare fino a ieri Pacchetto mega 35.000 5 pacchetti Vai col primo raga Adesso fai un giro Eccolo Primo pacchetto da 30 Una bella merda Leno vediamo quanto costa sto leno sicuramente non lo conosco neanche Up the door London questo non sa che vale tanto 80 velocità 80 tiro Portacci Mamma mia raga Sti super pacchetti Come buttare 190.000 crediti Non vale un cazzo Non vale un cazzo Guarda il portiere Dove vale Big che contratti Oh mio dio raga Voi non potete neanche Un pacchetto argento gratis Voi non potete neanche capire quanto valgono questi Questi valgono un fottuto casino La risulta è venduta 1 a 3.000 tipo Ma qua se non valgono un cazzo Vabbè Ovviamente da attaccante Adesso da attaccante Centrocampista Difenso Da cdc A centrocampista Centrata Vedete Già vale mille E da attaccante A c o c Raga vale un casino Ma sa Che è proprio un cambio di ruolo drastico Vaffanculo Va bene Il primo è andato così Serva tutto No Ma quello sei doppione No Non mi vuole far questo Non serve I doppioni non li posso mettere Tutti sul mercato Aspetta Confronta prezzo Così rientriamo dello scarto E 900 Vai In via Ma noi abbiamo ancora 157.000 crediti ragazzi Anzi Io direi subito Di Metterla a fortuna Ed aprire un pacchetto D'argento Che abbiamo trovato ora Oh Attenzione Pozi Attenzione Questo argentone Che forse Forse Vale qualcosa Ma manco per cazzo Via Via Tutto Al club Tutto al club Ragazzi siamo pronti Per aprire un altro Super Mega Iper Pacchetto Zubboti Zubboti Contratti 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 Formesifiche Questi pacchetto Oh Attenzione 4.000 crediti Allora ragazzi Dobbiamo fare un rito Dobbiamo fare un rito Per far uscire qualcosa A questo pacchetto Perché No Non fate punta i crediti A buffo E quindi Dobbiamo fare un rito Ora Vi mettete tutti Così Con le mani Sugli occhi E dite Cane trova Cane trova Capito Siete pronti Io non guardo Cane trova Cane trova Cane trova Cane trova Cane trova Cane trova Vaffanculo Cane non trovo un cazzo E basta Basta perché è impossibile Basta Altra volta strutman Cane cedo Che ci faccio Mamma mia Che schifo Oh addirittura Addirittura Questi doppioni Strutman Quanto vale Eh vale Il 1500 credo L'ultimo qua È forte strutman Cazzo ce l'ho io Vi consiglio di comprarlo Così Conco Oh scartiamo proprio Tanto non vale in cazzo E buona era pure Se dà una merda Via 92000 credito ragazzi Possiamo ancora sperare Vai Cane trova Ad occhi averti questa volta Cane trova Cane trova Cane trova Quale scelta Ma fra tutto è merda Ma qua si possono trovare Il nif almeno Barane Eh sto barane Eppure mi sa che vale un po' Mille dai Meglio mille che niente Lo sa Nell'arsenal Quanto varrà mai Ma E poi 500 credo Quanto vale Quanto vale Così Tu quanto vale Che a te te c'ho doppione Ma sai che vale un casino Ma te scarto Per il 600 A questo punto Per 54 kg in più Me li prendo subito E qua Fancuro Ragazzi Vediamo se si possono trovare Il nif Perché No si dovrebbero trovare però Beh che si si dovrebbero trovare Ne manca uno raga Uno 26 oro Di cui 18 orari Vai Per favore Dietro al joystick Miranda Che schifo Che Oh Questo me serve Questo me serve David Unis me sa che non vale più un cazzo Però Infatti non vale più un cazzo Mamma mia Più Mite della merda Lennon Lennon Quanto vali? Non vai un cazzo Lennon Vediamo quanto vale Miranda Ma non credo che valga tanto Ma non credo che valga tanto 6.000 Questo vale tanto Mi ci scommetto Le balle Scommesso male Regà Non ci scommettete niente Su queste cose Perché Ombro Ah cioè Maria dopo questa Ragazzi 7.500 714 21 Abbiamo Questi Cosa 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 Questo Io mi ricordo Una volta Tornato 1 E voleva 3.000 Cazzo Questo vale 1.500 Riscattiamo Sti 2.000 Crediti Tutto Nel me Affanculo Mi serve A un cazzo 18.000 Crediti Ragazzi Abbiamo buttato Tutti i crediti Così Ma fa niente Questo è Più per voi Un altro Pacco Un altro Pacchietto Vai Vai Oh Zenjin Già che sei portiere Non bagli un cazzo Giusto Già che sei un portiere Non conti un cazzo E infatti Non conti un cazzo Ma Oh Fanculo Ragazzi L'ultimo pacchetto Merde Merde Sucker Merde Sucker Merde Sucker Questo Mi sa che vale Un pochino Merde Sucker No Ma Vaffanculo Fanculo Fanculo E vabbè rega Questo pacchetto Opening Finisce qua Purtroppo Non abbiamo trovato nulla Io comunque spero Che vi sia piaciuto È stato un po' Niente Se vi è piaciuto Ragazzi lasciate un bel like Se vi va a commentare Se vi va a condividete Unfatcio a tutti ragazzi Ragazzi Bella Bella